Aveva dato il via al circolo. L'obitorio era un edificio dall'aria lugubre. Era in una via secondaria e somigliava a un magazzino. Quando entrammo nell'atrio trovammo il guardiano in una improbabile uniforme, un nero piccolo e robusto, sulla cinquantina, seduto alla scrivania, che se ne stava accanto alla finestra a guardare la pioggia. Si voltò verso me e mia moglie con le mani in tasca e ci portò in una stanza dalle pareti piastrellate di bianco, illuminata al giorno da tubi fluorescenti. Tirò fuori da un cubo frigorifero una barella coperta da un telo sporco e ne sollevò un lembo. Feci un cenno affermativo. Sì, è nostro figlio. Il guardiano gli ricoprì il viso e disse la polizia ha detto che è morto per droga. Ritornai alla realtà. Non poteva essere altrimenti, dissi. Ma che dici? gridò mia moglie in lacrime. Non poteva essere altrimenti, perché tu sai che nostro figlio è venuto qui per drogarsi meglio e per esportare la droga in Italia. Allora che cosa ti aspettavi? Noi come genitori abbiamo sempre mentito a noi stessi per proteggerlo, ma adesso davanti al suo cadavere sento il bisogno di avvicinarmi il più possibile alla verità. Nostro figlio veniva qui per le ricerche per la tesi di laurea di se mia moglie. Ma lui prima di partire aveva molti soldi, perché aveva dato il via al circolo che adesso ci ha portato al suo cadavere. Vedi, dissi, il fatto che sia stato nostro figlio non ci deve far credere che la legge di causa ed effetto non sia divina e perciò giustissima.